Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita Allora, come vedete sono riuscito a scappare da quella gente, ho aspettato il giorno e c'era davvero pochissima gente dopo E sono riuscito a ritornare al portale anche se ho vagato un pochino e purtroppo non ho trovato cavalli Quindi spero bene Però sono tornato indietro, sono riuscito a tornare indietro, ho preso un po' di grano, una sella e delle lid Delle leds Ne ho portate due perchè sapete no, che a volte si bugono, non vorrei mai che succedano casini Ehm... se non ho già questo tipo di finisco troppo in fretta Ehm...sì, ora arrivo al portale e poi vediamo di tornare in quella pianura perchè decisamente in quella pianura Sperando che l'andare avanti e indietro li faccia spawnare, probabilmente troverò dei cavalli Ehm...lo spero davvero Il problema poi sarà cercare di portarlo di nuovo a casa Però è davvero un problema? Cazzo? No ma... E' sorgi un problema Ehm... Come cazzo faccio sordire io da qua il cavallo? Ok ragazzi decisamente non era da qui che ho preso il primo cavallo Ehm...non è possibile Il cavallo quant'è? E' due per due? No è uno per due se non sbaglio Non penso sia uno per uno Se è uno per uno Se è uno per uno siamo a posto ma non penso Sperai vado in un modo creativo vado a provare Ok Ho fatto i miei test Purtroppo non mi ricordavo Ehm...il cavallo è largo, grande, due per due Ecco Qual è il problema? Beh...ve lo spiego subito Il problema è questo Non ci può passare la Potrei fare un casino con gli alberi e cercare di farlo spawnare ma No E sarebbe molto più facile fare altre robe Cosa farò? Viaggerò per 3.000 blocchi Probabilmente ci sarà tanta Tanta Acqua Sicuramente non mi ricordo Non mi ricordo come ho preso il primo Allora a meno che io non sia abbastanza scurato da trovare un cavallino piccolo Di quelli di un blocco I cuccioli Allora la ne possiamo parlare Posso usare il portale Altrimenti signore e signori Bisogna fare la versione Highlander E andare via Ehm... Nanaggia ti massacro Ah ok Per uccidere Dei maiali perché se devo fare sul serio questo viaggio Ho bisogno di cibo Ho bisogno di cibo Qui probabilmente non ci verò mai più forever nell'universo Di tutte le serie possibili e immaginabili Quindi... Ecco Questo maiale mi sembra abbastanza Qua ci dovrebbe essere un cavallo Qua ci dovrebbe essere un cavallo E' una pianura C'è scritto planes Eccolo Eccolo Cavallo Due cavalli Se c'è un bambino Se c'è un bambino Se c'è il baby coso Il baby... Baby horse No baby horse bitches Oh 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 Quale si chiama sto blocco? Ehm... Diorite Grani... Granito Merda Mi piace sta zona Cazzo Utile 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 E' anche relativamente vicino Allora vediamo Ehm... Fuck yeah Ehm... Si vediamo se c'è uno più bellino Eh fotte sega Vieni con me Amico mio Ti mostrerò Il mio villaggio Sarei entusiasta Perchè Lascia stare Amico mio Lascia stare Signore e signori Abbiamo il cavalluccio Questo poi crescerà Eh... Lascia stare Come crescerà sto cavalluccio E come cresce lui Posso farlo accoppiare con Ehm... Il cavall... La cavalla La cavalla che c'ho io E oh mio dio è quasi notte Corri Corri fa per... Oddio prima di correre Vediamo se ce la si fa Ce la fai? Ma povero guardala Ok Ok Ce la si fa Noi siamo dei pro player Eh scusa saltino Vieni di qua Ok Dobbiamo andare al portale Velocemente È quasi notte Non so se realizzi Ma non è una cosa bella Questo dov'è riuscire a portarlo su Per la scala E se ha una cosa Bellissima Ok Non mi ricordo dove è il portale Merda L'ho trovato Prima di iniziare l'episodio Perchè Era notte E ho visto le torce Però ora Non è notte È quasi notte Però Resta il fatto che io mi sto portando dietro un cavalluccio I cavallucci Diciamo che non gli piace la notte cavallucci Ecco Catroia Presso la roba Non me la data Eccola Vieni qua Seguimi Seguimi È importante Non fare cazzate Allora Sai dai su Non fa storie cavalluccio Andiamo per di qua Vedo una montagna Probabilmente di là Ci sei? Dai Io ti proteggo in caso ok? Oh madonna Come ti chiamo? Signor cavalluccio Allora signor cavalluccio La strada È imperterrita Che non vuol di un cazzo La strada è pericolosa Vieni qua Oh merda Dove c'è il portale? Aspetta 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 Avevo stampato le coordinate Nello scorso episodio Me la noto un attimo Dove cazzere? Cazzo Guarda la luna Signor cavalluccio Mi vedi? Andrà tutto ok Signor cavalluccio Ok Ti fidi di me Signor cavalluccio? E non risponde Perfetto Ok Coordinate la mani L'ho scritto sul post-it Proprio la Francesco sole Non perdere danno E seguimi Non perdere danno Non prendere danno Non perdere danno Non ha senso Di qua Cavalluccio Dai Oh merda Sento un ragno È in questa direzione Ecco Preso danno Buongiorno signor ragno Come la va? Ti a posto? Sono contento per lei Ma perché si ferma sempre a brucare? Che cazzo dico brucare? Non mangiare Vieni qua Che attraia No non mi seguire Non boia se mi segue Sali per favore Ma porca vacca Sti cavallucci Mi stai già sul cazzo signor cavalluccio Mi stai già sul cazzo Criamo Una strada Madonna Quanto l'hai lento Zombie Creeper Qualcun altro Mi devo girare continuamente Per vedere se c'è No eh Non ti azzardare Ah te ho visto Vieni qua Vieni qua Eh madonna Su Animo Ecco il portale Seguimi Che te ho visto Non trasformare il cavallo in un cavallo zombie Anche se non si può Seguimi Eh no quel cazzo Bisogna fare il giro Bisogna fare il giro Oh madonna signor cavalluccio Mi vuoi seguire per favore? Grazie mille Vieni di qua Ok ok Qua si scende con tranquillità Ok Eh ho perso la roba No ok Non si vede però Non Non mi cadere Va che si muore per il danno la caduta Ok ok Dai 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 Quasi fatta Quasi fatta Dai Lo puoi vedere che ora come Cos'è sto tizio con tua armatura? Morisce Morisce male Ok Dov'è? Ce la fai a salire? Ma tu sei proprio scemo sei Sali per di qua che c'è la scaletta Vieni qua Dai 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 Ok Ok Probabilmente ho perso la led Lead Insomma quella Ti trascinerò Non dovresti morire Mi capisci? Porca Eva No 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 Io ti odio Signor Cavalluccio Io la odio Come che se faccio io da qua? Oh merda Signor Cavalluccio Oh merda Signor Cavalluccio Devo fare in modo di creare una scala Si può? Si può? Se la faccio così Vieni qua per favore Vieni di qua Ti dico vieni di qua vieni di qua Ok Facciamo in modo che non posso uscire Caeva Dai dai che c'è la scaletta Oh porca cagna Dai che ce la si fa Oh Porcaccia quella cagna che ti ha inventato Sali su Troppo danno Non mi piace Oh cazzo No ok 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 forse ce la si fa Tanto lui è alto solo un blocco Se metto sta roba qua dovrebbe riuscire a salire Ma porca di quella cagna ti uccido No Oh mamma mia signore e signori Oh mamma mia No no signor Cavalluccio Qua non capisce Mangia un po' Mangia? Mangia Dai che almeno recupera vita Perché ho tre led? Non avevo tre Signore e signori probabilmente ci metterò qualche oretta Ce ne andiamo tra poco Devo dire niente? Devo parlare? No ditemi devo Devo parlare? È cresciuto 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 Se mi concedete un attimo signore e signori vado a suicidarmi Ehm Perfetto Come potete immaginare Questo è probabilmente il fail Più Che fai ti droghi? Eh no ma ti droghi No ti droghi pesante Che cosa è appena successo? È di un mingerlino Eh ma no Va che si tornano nel nederale di nuovo grande? Mi cazzo Ma che cazzo? Noo Noo Di nuovo Anzi peggio è morto È morto E stavo facendo di tutto E poi è cresciuto di nuovo Ma cosa sono sti bug? Ecco qua Signor cavalluccio Eccolo qua signor cavalluccio Lo vedi? È questo signor cavalluccio Vedi Resta in piso Oh madonna C'ho solo sei pezzi di gran Vabbè dai c'ho ancora la sella Forse riesco a prendere un cavallo serio E tornare a casa per sul serio? Hashtag per sul serio? Eh ho i miei dubbi Ho i miei dubbi E la madonna Le peggio cose Non so che dire Penso che sia Uno degli episodi di minecraftita più bugati Che vi abbia mai Caricato su youtube Possibilmente Sì Penso che sia il più bugato Penso che sia il più bugato Sì Oh merda Comunque sto cercando qua un cavallo bianco Ma non ce ne sono Ci sono solo questi qua di prima E vabbò Prendiamo quella più scura Allora a sto punto La più bellina Questo Questo Ok apriamo a montar Montarci sopra Ecco Perfetto Perfetto C'era con me C'ha tre, sei Vediamo quale ha più cuori Ah questo è più cuori Ok Voglio te amico mio Voglio te Cavalluccio 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 Molto bene Molto bene Molto bene Uccidi questo per favore Grazie Bisogna un po' più di carne Ok ok Siamo con mister cavalluccio Mister cavalluccio 2 Sarebbe in realtà Però va bene Importantissime le led Perché probabilmente C'era un bordello d'acqua Da qui a casa E devo andare In questa direzione Si spera C'è sì Penso Sono Abbastanza sicuro Dov'è che tengo La i La z Ok Devo andare tutto Signore e signori Ci vediamo tra probabilmente Tre o quattro anni Ok Wow Stavo tornando a casa E guarda che ho trovato Gli amici Di spettro Vediamo quanti riesco a prenderne Wow Quello è il primo colpo Te? Ok no Questo è la cagno Perfetto Ho due nuovi cani Perfetto E qua c'è l'acqua Bene Ho viaggiato Già per un migliaio Di blocchi E mi mancano altri Due mila blocchi Minimo Sempre se sto andando Nella direzione giusta Ma penso di sì Quindi Led alla mano No non a te E te morisce Vieni Se ho una lunga 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 Passeggiata Notata Se insomma hai capito Il viaggio continuo Il viaggio continuo ha trovato altri conigli E un villaggio Bellissimo Quanto pare io ho tante zone belline vicino casa C'è vicino casa Sono comunque due mila blocchi Però Boia Bello Soprattutto perché ci sono i conigli Ora non so come si addomesticano i conigli Anzi non so se si possono addomesticare Penso di no Quindi non posso farci niente Però per fortuna è diventato giorno Perché lascia stare Casino boia Vieni qua cavallucci Cazzo è finito Vieni qua Perfetto Ehm Ora vedo se riesco a farvi la clip In cui arrivo a casa Ehm Però Principalmente per questo episodio È tutto Madanna manca ancora un bordello di blocchi Per fortuna è finita l'acqua Anche se ci sarà un piccolo pezzo Da Inizia l'acqua Perfetto Signori E signori Cos'è Questo episodio Lo vedi che c'è il guardiano? Porca vacca Porca vacca Ho trovato il guardiano Ho trovato cosa dei guardiani Ho trovato il tempio Ho trovato Che c'era con me? No Oddio è troppo vicino No no Troppo vicino Scandiamocene Via Salviamo le coordinate Com'era? F3 Come cazzo è? F2 Ok Vi ho usato le coordinate Però poi Insomma Ci torniamo Va bene? Se Beh Eccolo è quello Te rimani la galla Ok non ci vede un caisse Lo vedi là in fondo? Io lo vedo Oh cazzo se lo vedo Mertaccia Per questo episodio è tutto Se non lasci mi piace ti uccido il gatto Ciao a tutti e tutti Ciao a tutti Ciao a tutti